Perchè le pompe industriali sono importanti? Le pompe industriali esistono fin dal III secolo a.C. Con la famosa coclea di Archimede. Fino alle più moderne come le idrauliche o le volumetriche. Le pompe industriali vengono utilizzate per spostare, in particolar modo a sollevare, fluidi. Ossia liquidi e gas. Esse sono la base della vita quotidiana, non mi credete? Beh, grazie alle pompe idrauliche che aprende il rubinetto e esce fuori acqua, ad esempio. Sono anche sfruttate per il corretto funzionamento degli impianti di trattamento delle acque o dei pozzi. O ancora per l'aria condizionata in estate e il riscaldamento in inverno. Non abbiamo ancora parlato delle pompe biologiche che sono presenti nel corpo umano, come il cuore o le pompe peristaltiche dell'esofago. In ogni caso, i maggiori produttori di pompe artificiali sono i seguenti. Correllino Corrello Grazie a tutti. Le idrauliche producono principalmente due tipi di pompe, volumetriche e idrauliche. Le volumetriche spostano vari nuovi volumi di un fluido, come le pompe a vite, peristaltiche o a mano. Le idrauliche sfruttano la dinamicità indotta del fluido, come le pompe a centrifughe. GIAES nel suo catalogo offre tutti i tipi di pompe industriali, quindi se necessitate di comprarne una, basta andare in descrizione e cliccare su GIAESCompany.com per accedere al catalogo digitale. Se invece desiderate sapere qualcosa di più sul funzionamento delle varie tipologie di pompe, in descrizione nella scheda in alto a destra troverete i link ai video collegati. Infine, se avete trovato il video utile, fatecelo sapere iscrivendovi e lasciando un commento. Grazie per la visione, a presto!